La Italdrag SPA è un'azienda leader nel settore delle attrezzature da dragaggio ideali per lagune marine, fiumi tropicali, cave aurifere e di pietre preziose, benne draganti, porti fluviali. La sede è in Italia e vanta una lunga esperienza maturata in più di 60 anni di attività. Ogni progetto, idee o soluzione su misura del cliente viene elaborata dal team dirigenziale. E lo staff ingegneristico aziendale lo progetta nei minimi dettagli. Le fusioni e le materie prime delle pompe draganti sono di altissima qualità. Ogni prodotto grezzo subisce un controllo accurato che ne verifica la durezza e la qualità della fusione. Tutte le fasi di produzione sono certificate ISO 9001. E alla fine di ogni processo produttivo, lo staff tecnico verifica e misura in maniera minuziosa ogni pezzo. La meccanica di alta precisione permette un assemblaggio eccellente di ogni componente. Ogni fase di produzione, dalle saldature all'assemblaggio alla verniciatura, vengono eseguiti da maestranze qualificate che garantiscono prodotti che durano nel tempo. Ogni draga viene preassemblata nello stabilimento per verificare la perfetta funzionalità. Ma alcune parti possono essere smontate per facilitare il trasporto in tutto il mondo. Lo staff tecnico effettua un controllo minuzioso della sala macchina e della cabina di comando, così che la draga lascia il cantiere navale pronta per il varo. Un servizio post vendita qualificato e un magazzino attrezzato permettono di avere ricambi in tempi rapidi. Uno staff tecnico qualificato è pronto per risolvere qualsiasi problema in ogni parte del mondo. In Africa, Asia, America Equatoriale ed Europa, qualsiasi sia la vostra necessità di dragaggio o ricerca di preziosi, Italdraghe ha la soluzione giusta per voi. Italdraghe. The best of made in Italy.